facciamo il risotto con gli asparagi selvatici ricetta pugliese cuciniamo il riso a cottura desiderata scolliamo il riso usando una bacinella sotto lo scolapasta come raccoglitore dell'acqua mettiamo due cucchiai di olio di oliva in una padella e la cipolla tritata lasciamo soffriggere appena la cipolla è leggermente arrosolata aggiungiamo gli asparagi facciamo arrosolare il tutto per circa cinque minuti aggiungiamo il riso negli asparagi mescoliamo allunghiamo con un cupino di acqua del riso due cucchiai di pecorino mescoliamo accuratamente lasciamo amalgamare circa due minuti e serviamo a tavola a gradimento potete spolverare ancora con un po di formaggio meglio pecorino buon appetito